Tutti vi chiederei di prendere posto e di ascoltare una brevissima introduzione, ma proprio breve. Allora, grazie anzitutto, grazie, è una delle occasioni più partecipate degli ultimi mesi, sono molto contento. Questa sera parliamo del libro di Veronica De Romanis, Il pasto gratis, pubblicato da Mondadori. Ne parliamo con il sottosegretario del Ministero dell'Economia, Federico Freni, con Paolo Mieli, con Luigi Marattin, con Flavia Perina. È una occasione, una circostanza che mi consente di rivedere una persona con cui mi sono misurato in varie circostanze, in circostanze diverse da questa naturalmente, ovvero la figura di un'economista che passa per essere una delle più importanti teoriche dell'austerity. Ora, credo che abbia scritto un libro terribile e mi rammarico di due cose. Il primo rammarico è perché non potrò seguire tutta la conversazione avendo un altro impegno istituzionale, ma il secondo motivo di rammarico è che non ho gli strumenti per controbattere alle tesi di Veronica De Romanis e spero che lo faccia qualcuno di voi, insomma siete tutti abbastanza attrezzati. Quando dico che ha scritto un libro terribile intendo dire che è un libro che ci mette di fronte, vedo l'ex ministro Tria che saluto, insomma ci mette di fronte a dei dati di fatto difficilmente oppugnabili, lo fa realmente senza fare sconti a nessuno, dei governi che si sono succeduti dalla stagione, da quello che si può definire principato di Matteo Renzi, caro Marattin, fino al governo di Giorgia Meloni. Ora è realmente una critica serrata che nasce arieggiando fin dal titolo l'adagio di Milton Friedman, cioè non esistono pasti gratis, quindi sostanzialmente abbiamo vissuto non soltanto al di sopra delle nostre possibilità, ma stiamo continuando a farlo e ce la siamo raccontata troppo bene o troppo male a seconda dei punti di vista. Neanche Mario Draghi esce indenne, e ho detto Mario Draghi, dalla serrata analisi di Veronica De Romanis che gli riconosce alcuni attenuanti, ma mi limito a dire che ci sono delle parole come flessibilità, tesoretto, privatizzazioni, promesse, e clausole di salvaguardia e addirittura la formula del debito buono, ve la ricordate? Quella con cui Draghi ha capovolto la narrazione e ha permesso a degli avanzi del sovranismo come me di dire, oh finalmente si può ragionare in termini di provvedimenti anticiclici, aprire un po' i cordoni della borsa. Non che questo fosse sbagliato probabilmente, ma c'è modo e modo per farlo. Veronica De Romanis entra nel cuore di questo discorso, non fa letteralmente a pezzi, ma fa una sostanziale autopsia a tutto ciò che non ha funzionato. A partire dagli 80 euro di Matteo Renzi, il surreddito di cittadinanza è quota 100, naturalmente l'obiettivo è fin troppo facile, anche alla luce, diciamo post eventum è più facile oggi probabilmente, però Veronica De Romanis ha seguito passo passo certe vicende. Io dico in via del tutto cursore che ho difeso da sostenitore, innamorato dell'idea che ci fosse una grande rottura nell'ordine del discorso, da sostenitore del reddito di cittadinanza ho seguito realmente il PD contestarlo come il male assoluto e poi nel governo Conte II cambiare improvvisamente idea con tutto ciò che ne è derivato. Però ecco, in questa analisi il principio di sincerità prevale, quindi l'idea di un sussidio per i meno capienti, per i meno abbienti viene salvato. Poi ne parlerete voi naturalmente, non devo essere io, ma poi siamo tornati con la mente al cashback, ve lo ricordate? La politica dei bonus, la metafisica del PNRR e del fatto che avessimo bisogno di tutti quei soldi maledetti e subito fino alla tassa sugli extraprofitti, alla conferma dei tagli alcuno contributivo. Tutto ciò viene preso e letteralmente fatto oggetto di una serratissima critica. Con l'onore delle armi, riconosciuto al fatto che i gialloverdi sono quelli che hanno alla fine tenuto i conti più in ordine, finché non hanno sbracato e che il presente governo di Giorgia Meloni ha iniziato molto bene la famosa agenda Draghi, probabilmente la scia comunque di un percorso estradato e oggi rischia l'effetto trass. Sull'effetto trass vi lascio con un po' di suspense e vi auguro buona conversazione. Grazie Alessandro, grazie a tutti per essere qui. Innanzitutto un'indicazione tecnica al termine del nostro incontro. Ci sarà il firma copie dell'autrice con la vendita dei libri appena fuori dal Maxi. Lo dico perché ci si vede, ci si incontra per discutere dei libri ma anche giustamente per venderli e avere il piacere di salutare una ad una le persone. Alessandro ha già raccontato molto di questo libro, io che cosa posso aggiungere? Non sono un economista, non mi sono mai interessata particolarmente di economia ma è stato un libro questo in qualche modo rivelatore. Quando Veronica ha cominciato a scriverlo e me ne ha parlato dicendo stai sto facendo questo lavoro analizzando governo per governo tutte queste misure di bonus, regalie che sono state vendute agli italiani come grandi fattori di sviluppo, ho detto vabbè ma insomma non vedo la novità. La politica italiana, poi magari ce lo racconta meglio Paolo Mieli che è stato un grande analista di questi fenomeni, è una politica che sulle regalie ha costruito gran parte della prima repubblica e anche della seconda cioè dal mitologica vicenda delle scarpe sinistra e destra di Aghile Lauro regalate prima e dopo al voto fino a Silvio Berlusconi che vince le elezioni dicendo abolirò l'Imu e però leggendo il libro si capisce qual è la differenza qual è il punto centrale che Veronica mette al centro della sua analisi è un metodo, un modello sostanzialmente discontinuo rispetto al passato perché in passato era ben chiaro che quelle erano regalie che qualcuno le avrebbe pagate singole persone come nel caso delle scarpe oppure le casse pubbliche come nel caso dell'abolizione dell'Imu. Invece da dieci anni a questa parte e in particolare dopo l'esperienza di austerity del governo Monti su cui poi magari apriamo una piccola parentesi il metodo è consistito nel vendere queste misure queste aggressioni alle finanze pubbliche del paese per cifre rilevantissime non come pasti alle spese delle pubbliche casse ma come pasti che si pagavano da soli e addirittura come misure che avrebbero incrementato lo sviluppo, l'occupazione cioè che avrebbero reso soldi alle casse dello Stato gli italiani le hanno in gran parte creduto i commentatori, i politici sono andati in televisione a spiegarci come ciascuna di queste singole misure avrebbe presentato un enorme beneficio per le casse pubbliche avrebbe aumentato lo sviluppo, avrebbe aumentato i posti di lavoro avrebbe fatto bene alle casse dello Stato e quindi la narrazione si è completamente sovrapposta a quelli che erano poi i contenuti autentici che sono appunto quelli di un pasto che non era gratis ma era pagato con i soldi delle tasse di tutti noi i soldi delle nuove generazioni le prossime risorse dello Stato che sono ipotegate da qui all'eternità praticamente i capitoli in cui Veronica divide il libro sono quelli appunto dei governi che si sono succeduti dopo Monti che viene individuato un po' come il grande shock di questa vicenda io ecco, quella è una fase che ricordo bene ero persino in Parlamento durante il governo Monti all'inizio Monti piaceva agli italiani arrivava appunto questo professore con l'Oden aveva indici di consenso queste persone che prendevano sul serio la questione Italia e facevano riforme anche dolorose erano circondati da un notevole apprezzamento pubblico dell'opinione pubblica da livelli alti persino dei sontaggi tanto che lui si mise in mente addirittura di fondare un partito che tanto male poi non andò, prese circa il 10% una quota che oggi diciamo molti leader della politica italiana ci metterebbero una doppia o tripla firma per arrivarci e tuttavia tutti i partiti che hanno partecipato all'esperienza del governo Monti il giorno dopo la caduta di Monti lo hanno totalmente disconosciuto le misure del governo Monti sono diventate i grandi nemici della politica italiana e in ogni programma elettorale di ogni singolo partito sono entrate cose che sostanzialmente demolivano quelle misure il simbolo più grosso è quello della legge Fornero che resta tuttora una specie di bestia nera tutti l'hanno votata perché l'hanno votata tutti e però la responsabilità è disconosciuta sembra che sia esclusivamente di Elsa Fornero e del ministro Monti quindi questo è il meccanismo è un meccanismo che inganna le opinioni pubbliche che per molti versi poi alla fine forse hanno anche piacere di essere ingannate perché è certo che fa molti di questi provvedimenti hanno fornito importanti sostegni a interi settori queste regalie sono arrivate a terra hanno aumentato i redditi hanno consentito persino a delle persone di comprarsi gratis il monopattino quindi alla fine non è che uno dice no io il monopattino non lo voglio oppure gli 80 euro in busta paga li restituisco perché mi sembra mi sembra una truffa e tuttavia questo è il meccanismo che spiega bene il libro il metodo che spiega bene il libro fino ad arrivare all'esperienza attuale e qua arrivo all'enigma che ci ha posto poco fa Giulie del governo Meloni che si insedia in un momento in cui è fresca un'esperienza inglese pazzesca cioè al governo Inghilterra è arrivata l'Istas che ha immaginato di applicare le ricette con cui aveva fatto campagna elettorale cioè un drastico taglio di tasse con caratteristiche imponenti vara questo provvedimento in 5 minuti crolla la sterlina i mercati si imbizzariscono succede un putiferio in parte lo revoca sperando di ammortizzare i danni e poi è costretta alle dimissioni ora questa cosa è stata molto poco guardata in Italia e tuttavia e tuttavia forse ha avuto un effetto anche sulle scelte di Meloni che arriva al governo promettendo pasti gratis per un valore che gli economisti e i giornalisti avevano calcolato in 80 miliardi di euro se non mi ricordo bene con l'abolizione delle accise sulla benzina l'abolizione della legge Fornero il ripristino di quota 100 sgravi enormi sull'assunzione di nuovi dipendenti nelle aziende private c'era un elenco lunghissimo di provvedimenti promessi però si insedia e invece tira i remi in barca fa due manovre molto prudenti consapevole del fatto che non sarebbe stata probabilmente perdonata dai meccanismi generali dell'economia perché poi quando diciamo mercati diciamo la fiducia degli investitori se avesse dato corso a quel tipo di promesse elettorali la storia è ancora da chiudere nel senso che il primo appuntamento importante per il governo di centrodestra sono le prossime europee tutti gli altri governi alla vigilia di questo appuntamento gli 80 euro arrivano prima degli europei quota 100 arriva prima delle elezioni europee e portano tanto consenso ai partiti il 40% a Renzi il 34% a Salvini e ora bisogna vedere se nella prospettiva di questi europei e magari salterà fuori un pasto gratis targato centrodestra o forse no ci si regolerà diversamente è una delle cose sulle quali poi magari il sottosegretario Freni ci può dare qualche chiarimento però ecco passo volentieri la parola a Paolo Mieli con una curiosità mia ma cioè alla fine io capisco non c'è un elemento di ingenuità nella voce degli economisti che continua a dire basta bisogna spenderli smetterla con questi pasti gratis cosa altro può vendere la politica oggi i grandi sogni i domani che cantano la rivoluzione liberale tutte queste cose ormai sono state macinate dalla storia alla fine il modello dei pasti gratis non è anche un modo con cui la politica riempie un vuoto di proposta di appeal sulla pubblica opinione che altrimenti non saprebbe come riempire allora grazie e prima di parlare mi scuso che dovrò assentarmi appena ho finito di parlare perché avevo un impegno mi sono sbagliato insomma ho preso un impegno precedente credevo che cominciasse a essere 6 non me la sto a fare troppo lunga e rispondo alla tua domanda sì c'è però un modo ci dovrebbe essere un modo per non essere il paese in cui la politica non c'è bisogno di andare molto lontano se avete seguito le elezioni in Sardegna e Molise avete visto che sono soprattutto quelle in Abruzzo scusate sono state delle cose di promesse di pasti gratis tutto spiagno cioè ormai esiste una retorica pubblica che credo che sia anche quella che affolla questa sala qui stasera che è chiaramente contraria ai pasti gratis esiste finalmente un testo di riferimento una Bibbia perché questo libro di Veronica De Romanis parliamo un attimo del libro e del motivo per cui lo dovete comprare e leggere leggere e rileggere e soprattutto conservare perché un giorno lo dovrete dare ai vostri nipoti e dire ecco perché è successo tutto quello che voi state pagando è un libro tra l'altro è ricco non è un pamphlet è un libro ricco di documentazioni di note insomma un libro molto molto serio e detto questo non lo so io stesso essendo un economista ho studiato questo aspetto solo dal punto di vista storico e so che l'origine di tutti i mali è in un anno che è l'anno 1876 che è l'anno in cui cadde la destra storica che si era fatta del rigore dei conti un principio e lo osservava spietatamente e venne al potere con un'operazione stravagante cioè un pezzo di destra si staccò per un problema della legge sulle ferrovie e diede vita insomma fece cadere l'ultimo governo della destra che era il governo Minghetti venne al potere della sinistra trasformista e lì cominciò una certa forma di allegria che poi portò i primi scandali della fine del secolo e poi finalmente arrivò un dio che ci autorizzò al pasto gratis che si chiamava John Maynard Keynes cioè è stato un nome in omaggio al quale abbiamo potuto mangiare e mangeremo gratis noi che stiamo qui per tutto il resto della nostra vita possiamo promettere e tu non ti preoccupare che i cordoni della borsa non si stringono i cordoni della borsa si allargano e se devo descrivere come questa cosa è andata è andata su dei miti e delle parole chiave allora come si fa a risolvere il problema del debito con lo sviluppo lo sviluppo come si fa buttando dei soldi dalla finestra sostanzialmente poi i saggi diranno che c'è una forma di sviluppo che si fa altrimenti però insomma buttando dei soldi di cui non è sicuro il ritorno dei soldi a rischio più altri soldi che vengono buttati alla finestra per i motivi che tu hai appena raccontato ci sono delle parole che quando voi le sentite dovete drizzare bene le orecchie che sono nei programmi di governo in genere colpire l'evasione fiscale non perché sia male perché quando vi dicono come si fa a recuperare queste soldi si colpisce l'evasione fiscale i più scarsi di fantasia dicono nazionalizzando delle caserme che sono deserte e che servono ad ogni cosa per rifare le prigioni per coprire i soldi che mancano così e poi l'altra parola magica è il tesoretto che spunta sempre nel momento in cui si fa la finanziaria quando ci sono dei buchi cioè fra colpire l'evasione fiscale e il tesoretto abbiamo fatto il pasto gratis e ogni sera se ne usciamo belli satulli dal ristorante nessuno ha pagato ha ragione ha avuto ragione Giulia pagina 119 c'è la chiave di questa cosa c'è una cosa su cui sono in disaccordo per modo di dire Veronica l'ho detto nel senso che la periodizzazione secondo me comincia non come dici tu dopo il governo Monti ma a metà del governo Monti un giorno proverò a scrivere neanche io perché durante l'esperienza del governo Monti a metà del governo Monti esattamente a metà cioè quando cambiò Monti che pensò di entrare in politica lì si intravidero delle cose di pasti gratis che entravano dentro ma per il resto il libro mi convince tutto e la trovata più geniale che secondo me sta al pari di tesoretto e di colpire l'evasione è la storia del debito buono e del debito cattivo fatta prima di andare al governo perché ho sempre capito com'è il debito buono che è quello che facciamo tutti noi non ho mai ben capito dov'è il debito cattivo e chi fa un programma di governo e si presenta e lo realizza contro il debito cattivo quando sentì quella cosa del debito buono capì che finalmente avevamo risolto il problema e il famoso decennio dei tecnici perché questo è uno strano decennio che andrà studiato perché è un decennio in cui adesso non vi offendete ma al potere ci siete stati voi tranne Giulie ma voi che siete qua davanti e per via in diretta ognuno dirà di no ognuno dirà no io non c'ero io ero da un'altra parte però è stato un decennio in cui non comandavano non comandava la politica che aveva vinto come negli anni precedenti uno poteva dare la colpa a Berlusconi o a Prodi o alle mollezze di Berlusconi e Prodi ma che si è aperta con Monti o si è chiusa con Draghi non a caso e che in mezzo ha avuto dei governi cosiddetti di tecnici di unità nazionale pasticciati in mezzo da una parte in mezzo dall'altra ma non governi che rispondevano elettoralmente a un elettorato dico voi ma dovrei dire noi mi metto ampiamente dentro questa sacca e saremmo chiamati a rispondere un giorno se qualcuno ritirerà fuori il libro di Veronica De Romanis ci dirà ma scusa tu che le sapevi tutte queste cose una di voi le ha addirittura scritte come mai le cose sono andate come sono andate io non saprò che dire il resto del dibattito lo seguirò attraverso Radio Radicale quindi me lo sentirò tutto poi vi telefonerò uno per uno per dirvi quali sono le mie risposte però penso penso comunque che fatta una prova di un decennio di governi fra tecnici con i migliori economisti le migliori teste e i migliori tagliatori di spese messi uno dietro l'altro alla luce e dato questo risultato penso che nel futuro si può fare tranquillamente di riprendere la politica che una volta vince una parte una volta vince l'altra e che questo mito che noi agitammo fin dagli anni 80 fino agli anni 70 inizio anni 80 che i tecnici avrebbero dato una risposta su questo terreno è un mito che è venuto meno non si potrà riprendere mai più e comunque c'è una cosa che non ho mai capito io non la capisco perché non sono un economista tutti gli economisti ti dicono sempre eh sì ma non può essere infinito mentre un bici noi siamo dalla dimostrazione io nella mia età siccome l'ho sentito quando avevo 40 anni di meno che secondo me può essere infinita questa cosa oppure che capita con un fulbine così e se vi capiterà di andare o alcuni di voi tornare al governo non abbiate paura c'è sempre una pandemia una crisi una guerra d'Ucraina una lotta al terrorismo due treni che si sono scontrati c'è sempre un motivo per allargare i cordoni quindi che Giulio non si preoccupi che i cordoni resteranno sempre larghi e ci sarà sempre un grande motivo nazionale internazionale una febbre un'alluvione una cosa e il cordone si rallegherà e noi vivremo tutti felici e contenti però mi raccomando a cena quando vi trovate dite così non si va avanti perché se no fate la figura dei cretini così di qui a breve di qui a breve l'Italia esploderà con questo ritmo accumulo di debito pubblico non si può dovete alzare la voce poi avvicino alzarvi andare vicino alla tenda e tornare con un'aria corrucciata a tavola se no fate la figura del cretino come sto facendo io adesso grazie Luigi Marattin sei uno in qualche modo tu sei stato consigliere economico del governo Renzi hai avuto un ruolo importante in quella stagione sai in qualche modo non si capisce se sul banco degli imputati o sul banco dei di quelli che regalano che hanno regalato benefici al paese decidilo te insomma raccontaci la tua versione dei fatti sì buonasera e grazie per questa bella occasione di riflessione ma guardate mi dispiace se non ci sia Carlo Cotterelli perché inizio da una cosa che mi chiese Carlo quando appena stato eletto in Parlamento poi dopo come sapete si è dimesso dal senatore mi invitò a pranzo e mi dice ho trovato la soluzione che io come tutti voi immagino stimo moltissimo quindi ho ascoltato con molta attenzione dice ho presentato una proposta di legge che obbliga i programmi elettorali a essere bollinati dalla ragioneria generale dello Stato perfetto così finisce subito la campagna elettorale ecco perché vi cito questo esempio che mi dispiace non poter dire a Carlo perché sul momento rimasi un po' interdetto devo dire la verità non riusci a replicare come farei adesso il punto qual è che si corre sempre il rischio da parte di chi sta un passo fuori dalla politica di applicare l'approccio normativo al dibattito politico l'approccio normativo è la realtà come dovrebbe essere l'ottimalità questa è anche la ragione per cui la vera legge sarebbe vietare agli economisti di far politica perché hanno troppo un bias una distorsione verso l'ottimalità in economia quando c'è qualcosa che non funziona assumi che non esista fai un modello che assuma che non esista e poi sei portato naturalmente alla ricerca dell'ottimalità e quando entri in politica parlo di me stesso sia chiaro quando entri in politica hai una tendenza che non riesci a evitare a trasmettere quella spinta verso l'ottimalità alla pratica politica pensando ma tanto è evidente se è così tutti conoscono il modello e quindi tutti avranno consenso su questa mia tensione verso l'ottimalità a caro carissimo prezzo impari che non funziona così la politica banalmente perché non tutti conoscono il modello quindi le aspettative razionali in realtà come abbiamo imparato con la crisi del 2008 hanno dei problemi e perché non tutti sono in grado di riconoscere l'ottimalità la democrazia per definizione è un regime una situazione una politica in cui il popolo che vota non ha necessariamente gli strumenti per conoscere l'ottimalità ammesso che la scienza economica possa concordare su cos'è l'ottimalità perché vi ho fatto questa premessa perché c'è sempre questa tendenza che noi vediamo o la vede chi da economista entra in politica e sbatte contro la realtà io non credo ad esempio che si possa mai arrivare a una situazione in cui i politici non promettono pasti gratis in campagna elettorale proprio perché c'è una componente di consenso che non è che non segue le logiche della razionalità e diciamo la verità non accade in nessun paese anche Milei che è un'esperienza che io personalmente sto seguendo con molta attenzione il nuovo presidente argentino non ha fatto esattamente una campagna elettorale scevra da richiami populisti perché l'idea di dover comunque misurarsi comprendere il consenso per poi governare è una cosa che è connaturata alle democrazie purtroppo è ancora diciamo più cogente in democrazie in cui il tasso di consapevolezza dell'elettorato è sempre più basso e questo si lega anche a come noi abbiamo lasciato andare il settore formativo al ruolo dell'informazione non è l'innocente l'informazione tutto questo non è innocente l'informazione nel non diffondere nel non diffondere consapevolezza economica non è innocente l'informazione nel non far credere che esistano pasti gratis quindi io non aspiro a una situazione in cui i programmi sono bollinati dalla ragioneria generale dello Stato o se preferite in cui in campagna elettorale i politici non promettano pasti gratis perché non è realistico data la situazione anzi temo che per come sta peggiorando la consapevolezza del corpo elettorale italiano la situazione sarà sempre peggiore da questo punto di vista mi accontento quando dico che ho sbattuto la testa contro la situazione ho anche imparato ad accontentarmi che in Italia cambi direzione da un certo punto di vista io l'altro giorno quando Istat ha pubblicato i dati il primo marzo del 2023 sono andato a vedermi anche per prepararmi a questa bella discussione del bel libro di Veronica a come è andata la spesa pubblica italiana dal 95 ad oggi e dal 95 ad oggi hanno governato veramente tutti anche dal 2010 in realtà anzi dal 2012 hanno governato tutti dal 95 ad oggi negli ultimi 30 anni diciamo così la spesa primaria corrente quindi togliamo gli interessi sul debito che non sono controllati dal governo e togliamo gli investimenti che normalmente sono associati a un moltiplicatore maggiore quindi normalmente gli investimenti diciamo sono debito buono anche se non sempre la spesa corrente primaria in Italia negli ultimi 30 anni in termini reali quindi oltre l'inflazione è aumentata del 76,1% vuol dire il 2,6% all'anno nello stesso arco temporale il tasso di crescita del PIL medio è stato lo 0,7 anno quindi stiamo dicendo che noi viviamo in un paese in cui la spesa ogni anno corrente primaria cresce circa 4 volte più del reddito e mi accontenterei che i politici abbiano il coraggio di spiegare agli italiani che mentre negli anni 70 avevamo il dibattito sul salario variabile indipendente che poi è stato parzialmente accantonato come argomento anche se gira ancora siamo passati alla teoria della spesa pubblica come variabile indipendente cioè destra e sinistra perché su questo non c'è destra e sinistra ci raccontano che comunque la spesa pubblica deve andare per conto suo perché è comunque la soluzione a tutti i problemi è condizione necessaria e sufficiente per risolvere i problemi italiani c'è un problema spendi di più un'impresa va in crisi entra allo Stato la scuola non funziona bisogna assumere di più eccetera eccetera ho poco tempo quindi mi accontenterei che i politici sappiano spiegare che se è così c'è un problema perché la spesa pubblica come scrive bene Veronica nel lungo periodo e anche nel breve in teoria dipende dalle condizioni iniziali se non è accompagnata da un pari incremento delle tasse prima o poi vai a gambe all'aria e le tasse si bassano sul reddito e quindi se il reddito sotto non cresce a una velocità sufficiente il sistema salta che è quello che sta avvenendo in Italia un'offerta politica che dica questo in Italia non c'è e sapete perché non c'è? per l'effetto imitazione cioè a me è capitato in questi anni di dirle queste cose nel mio alveo politico e non solo e lo sapete che cosa ho trovato primo ho trovato gente che a telecamere è spenta e dice sì è così però è impossibile da spiegare e la seconda cosa che ho trovato è la sensazione di chi dice certo che è così però guarda questo il consenso come l'ha preso l'ha preso in un altro modo che sono io il più fesso perché negli ultimi dieci anni è successa anche un'altra cosa il consenso elettorale è andato a quello che stava fuori dalla porta e diceva aspetta che quando arrivo io Renzi ce lo metto Renzi in questo discorso come è noto non condivido tutto quello che Veronica ha scritto sull'esperienza dei 80 euro perché diciamo non dobbiamo dimenticare le condizioni cicliche dell'economia in quel momento nel 2014 noi uscivamo da una doppia recessione avevamo perso nove punti di PIL un milione di posti di lavoro 25 punti di produzione industriale è ovvio che la stabilizzazione ciclica dell'economia comportava anche una manovra a deficit e che le condizioni iniziali del debito italiano erano troppo alte ma lo erano da inizio degli anni 90 quindi quando si è detto questo quando mi è capitato di dire così no ero al punto in cui Renzi è stato un passo fuori dalla porta e ha detto quando arrivo io vi faccio vedere poi ho rimosso perché sono stati dieci anni complicati 5 stelle sono venuti dopo sì che stando fuori dalla porta quando arrivo io Saldini e adesso Meloni c'è un punto però sono finiti è finito il giro perché poi ognuno di questi lo dice bene Veronica alla fine del libro prometteva sempre un po' di più e gli italiani ci cascavano anche per colpa dell'informazione adesso sono finiti non c'è più nessuno che può dire io sono stato fuori dalla porta vedete provatemi e il pasto ce l'avrete pasto gratis cena gratis e colazione gratis io non so se è quello che sta provando a fare vannacci può darsi sono io quello nuovo oh oh abbiamo non è che negli ultimi siano stati come dire abbiamo avuto Churchill e quindi o arriva un altro a continuare il giro o il giro ricomincia ma è difficile perché sono stati tutti al governo in tempi troppo recenti per poter dire arrivo io e vi do il pasto gratis oppure ed è quello che mi tiene diciamo ancora qui prima ritornare ai modelli economici dove non c'è bisogno di prendere consenso per poter gestire le leve della politica oppure l'elettorato domanda e offerta fa un salto di maturazione l'offerta perché smette di dire non sono io il più fesso che adesso smetto di raccontare scemenze e quindi un'offerta politica che sia in grado di accettare la sfida della maturità e accettare la sfida di proporre una visione di società non basata sul pasto gratis e una domanda che sappia rispondere perché poi in questo tipo di gioco basta uno che devia e ti frega perché se c'è un altro che dice no no questo qua fa il professore lascia perdere votami che ti do 2000 euro al mese basta uno che ti devia per fregarti la maturazione possibile questo è quello che io spero vi dico la verità non ne vedo le condizioni ci avevamo provato noi col terzo polo a costruire questa cosa non è andata benissimo per il momento oppure e chiudo c'è una cosa che mi tiene sveglio invece la notte è che temo che l'unico modo per interrompere questo circolo vizioso sia cadere nel baratro prima ho citato l'argentina c'è la grecia che è un paese da tenere sott'occhio la grecia da diversi anni si finanzia un tasso stabilmente inferiore di 50 punti al nostro 50 punti base ha fatto un PNRR coi fiocchi hanno eletto a capo del partito più estremista quello di Varoufakis un ex banchiere di Goldman Sachs l'hanno eletto non è venuto a occupare c'ha una classe politica ha vissuto dieci anni di inferno ma come dire in quel modo ha imparato la lezione fra cinque anni avrà un debito pubblico più basso del nostro probabilmente io temo perché non è un esito che voglio che l'altro equilibrio in Italia possa essere questo cioè siccome la classe politica non riesce a coordinarsi su smettere di fare teatro e la domanda politica non la smette di inseguire il pifferaio di turno se non facciamo questo l'unico modo per capire sia non solo vedere il baratro ma passarci anche qualche anno sotto e siccome è una cosa che non auspico io spero vivamente che ci sia un processo di maturazione della domanda politica che per definizione democrazia ha sempre ragione gli elettori non sbagliano mai a votare se vogliamo essere veramente democratici devono prendersene le conseguenze dopo però non sbagliano mai e soprattutto dell'offerta politica l'offerta politica per maturare deve capire che un altro modo di prendere non deve bollinare i programmi elettorali non lo deve fare ma deve capire che un altro modo di tutto quello che abbiamo fatto in passato grazie sottosegretario freni allora ci dice Maratin le regole del consenso non sono le regole dell'economia e quindi alla fine per il principio di imitazione è molto difficile che un governo possa esentarsi dall'offrire pasti gratis in realtà il governo di Giorgia Meloni come racconta bene Veronica nel libro è un governo che è stato finora prudente ha cancellato alcuni pasti gratis che si erano sommati nel passato ha fatto un intervento importante sul reddito di cittadinanza ha chiuso anche se non in modo definitivo quasi definitivo col tema super bonus che due argomenti sui quali persino Mario Draghi con tutto che ne parlava malissimo non era mai riuscito a mettere una barriera proprio per la natura del suo governo della sua maggioranza e ci si chiede è arrivato questo cambio di tendenza oppure appunto visto che mancano pochi mesi all'europeo e scopriremo in questi pochi mesi qual è il pranzo gratis che ci offre il governo Meloni ma allora io al di là dei ringraziamenti ovviamente sono un po' meno ottimista di Luigi ma avendo un substrato meno economico di Luigi cerco di meno l'optimum di come lo cerca Luigi però fughiamo il dubbio il pasto gratis prima dell'europeo non può arrivare ma per la ragione banale che in cucina non c'è cibo a sufficienza per preparare pasti gratis tantomeno in questo periodo ora detto questo però io credo che ci sia un passaggio e non lo dico per deresponsabilizzare la classe politica chi mi conosce sa che io non vengo da questo mondo e sono un po' come uno yogurt ho una scadenza tutto sommato non dico fissata però abbastanza breve e c'è un passaggio sono a pagina 120 che secondo me è la chiave di volta per capire l'andamento di tutto questo viene ribadito anche in pezzetto della premessa siamo nelle conclusioni a un certo punto citando un premio Nobel si dice noi scegliamo leggo le cose facili l'interesse personale il rifiuto del dialogo quindi incolpare i politici è sbagliato persino controproducente le loro azioni sono in gran parte l'emanazione delle nostre richieste abbiamo le politiche economiche che ci meritiamo ora io per questo dico sono meno ottimista di Luigi perché credo che in realtà immaginare non è un passaggio tuo è un passaggio citato non mi ricordo come si chiamasse il premio Nobel che citavi ma è una citazione di questo passaggio di questo premio Nobel che non mi ricordo come si chiamava però vabbè qui il tema è che immaginare che oggi la politica possa avere questo ruolo non voglio dire educativo non voglio dire maieutico non voglio dire nemmeno di guida è quanto meno utopistico oggi la politica non guida è guidata la politica purtroppo lo dico con dolore la politica è guidata la politica è come dire proprio perché c'è quell'effetto emulazione per cui se la sparite la devo sparare io perché altrimenti non votano te votano me e via così le politiche economiche non sono improntate nessuna politica economica è improntata a un sano e prudente realismo fermo restando che poi sul debito qualcosa c'è da dire anche sulle tendenze globali del debito la politica economica è improntata alla ricerca del consenso perché nel 2024 ma è un fenomeno globale non è un fenomeno italiano il consenso si ricerca attraverso politiche economiche eterogene tra loro quindi immaginare che la politica possa come era una volta probabilmente dare un indirizzo a tutto questo sarebbe molto bello ma temo oggi con la condizione attuale con la condizione di educazione finanziaria di oggi che è prossima allo zero molto utopistico detto questo il tema del debito e il tema del pasto gratis è un tema che va ma in parte anche contestualizzato perché i dati Ocse recenti ci dicono che la domanda di debito nel mondo è in ascesa perenne noi siamo passati me ne rappuntati questi numeri noi siamo passati da un debito complessivo mondo di 40 trilioni nel 2019 a un debito nel 2023 di 54 trilioni con una prospettiva 2024 di 56 trilioni 2 trilioni di debito in un anno ora che il ciclo dell'economia mondiale sia un ciclo drogato dalla dinamica del debito purtroppo è un dato con cui dobbiamo fare i conti che poi la dinamica del debito in paesi come il nostro e in contesti economici devo dire come il nostro abbia delle ripercussioni strutturali diverse è un dato con cui pure dobbiamo fare i conti però dobbiamo anche dirci che anche qui c'era un bel grafico dell'Ocse che fa vedere Italia e Grecia in questo caso vicine debito molto alto debito pubblico molto alto indebitamento privato molto basso ci sono paesi che hanno indebitamento privato altissimo e debito pubblico bassissimo ora io non so quale sia la soluzione migliore forse una buona via di mezzo però scappare dalla dinamica del debito a livello globale secondo me è anche qui utopistico detto questo dobbiamo porci razionalmente la domanda se avere o non avere il nostro debito oggi sia sano e la risposta è ovviamente no la risposta è tutti i pasti gratis è bellissima l'immagine del pasto gratis perché riesce e questo devo dire che è un tratto caratteristico del libro di Veronica riesce a spiegare una serie di dinamiche anche molto complesse in termini semplici ma non generici mantenendo il rigore dell'argomentazione ma consentendo a chi legge di intendere a prescindere che abbia o meno una laurea in economia e non è poco visto che si tratta di spiegare tematiche tutto sommato non propriamente banali dicevo tutti questi pasti gratis che abbiamo tutti più o meno consapevolmente apparecchiato sono pasti gratis che hanno certamente impoverito la dispensa perché la dispensa alla fine è rimasta vuoto quello che abbiamo chiamato tesoretto era semplicemente qualcuno che aveva fatto la spesa e trovato un pacco dei pelati un pacco di pasta che dici faccio la pasta me la mangio subito o li tengo per l'inverno quando farà freddo usciti di metafora vado in abbattimento del debito o me li consumo come tesoretto per fare X politica che può essere sempre emanazione ovviamente di un indirizzo politico la risposta è stata quasi sempre in questo paese no mettiamo in tavola qualcosa perché tanto ci sta da mangiare perché se la sparo più grossa di lui prendo più voti di lui se la spara più grossa di me altrimenti li prende lui o altrimenti sarà lui a dire che lui avrebbe usato il tesoretto in questo modo e alle prossime elezioni regionali politiche circoscrizionali europee prende sicuramente più voti di me poi dovremmo interrogarci nella complessiva dinamica politica se sia sensato avere n consultazioni più o meno una ogni settimana elettorali tali da falsare la dinamica perché dovremmo anche essere così irrazionali da capire che se la dinamica elettorale è così pressante da falsare perché è ovvio che la narrativa del pasto gratis c'è è inutile negarlo forse non voglio dire che se votassimo ogni quattro anni per tutto tutto insieme sarebbe più semplice però probabilmente votare ogni settimana non è termi termi ecco fa una cosa di mezzo voti ogni due anni insomma già forse qualche politica economica più seria si potrebbe costruire però tutti questi pasti gratis il vero problema vero della narrativa di una narrativa che si innesta come correttamente Veronica ha scritto su un contesto di sconoscenza finanziaria da parte dell'elettore questa narrativa è una narrativa che si fortifica nel momento in cui si dice però guarda che effetto sul PIL ti ho creato guarda che si ti ho speso ho aumentato il debito ho fatto questo in deficit però volano per l'economia non c'è stato allora la domanda io penso a quello che perlomeno a me che in questi ultimi due governi mi ci sono dovuto confrontare non tanto dal punto di vista politico quanto dal punto di vista dei numeri ha tolto parecchie ore di tempo non voglio dir di sonno perché poi uno dorme però di tempo è il super bonus e dici però guarda abbiamo dato la ripresa grazie tanto dico io butta 148 miliardi sul 150 mal contati sul sistema economico e vogliate se crei un effetto volano sul PIL ci manca pure che non lo creano 148 miliardi un effetto sul PIL dovunque voi li mettiate dovunque la domanda che dobbiamo porci è se le politiche dei pasti gratis che abbiamo fatto cioè su questi n miliardi di euro che abbiamo impiegato sul sistema economico li abbiamo impiegati nel modo corretto perché buttare soldi buttare mettere soldi sul sistema economico crea sempre quasi perlomeno un effetto volano bisogna capire se quei soldi impiegati in modo diverso avrebbero creato un effetto volano maggiore avrebbero creato un effetto più duraturo sul sistema economico probabilmente investirli in sanità avrebbe creato un effetto più solido è sempre il discorso del fuoco tu accendi il fuoco lo accendi fa una bella fiammata però poi se è acceso con la legnetta il fuoco si consuma subito se ci hai messo legna solida magari la fiammata è meno bella da vedere ma è più duratura è ovvio che se poi la legna è anche bagnata la fiammata sarà bassina e il fuoco si spegne se la legna è secca al punto giusto la legna brucia bene ecco è questa la domanda che credo la politica debba farsi e cioè non tanto e non solo quanto debito fare quanto debito non fare come gestire il deficit ma la qualità della spesa non soltanto la quantità perché poi io ha ragione Paolo Mieli siamo tutti un po' prigionieri di questa spirale chinesiana il debito lo risolvo con la crescita la crescita la finanzia con il debito quindi è un cane che si morde la coda però è anche vero che non è che ci siano particolari alternative a tutto questo cioè non è che il debito oggi se fossi De Pretis potrei dirvi che probabilmente avrei fatto potrei fare scelte diverse magari ciao Quintino Sella vicino che diceva non è così siamo nel 2024 tutti e dobbiamo fare i conti per restare in una metafora di cucina dobbiamo fare il pane con la farina che abbiamo eccola per fare il pane con la farina che abbiamo il debito c'è non sparisce dal giorno alla notte anzi potrebbe sparire se tutti decidessimo di farlo sparire ma anche questa è un'utopia ovviamente perché è un'utopia allora il tema del debito oggi non è come farlo sparire il tema del debito è come pagare meno interessi sul debito perché il problema vero del nostro debito oggi non è tanto il debito in quanto tale perché la dinamica del debito abbiamo detto prima è una dinamica più o meno globale è che noi paghiamo un interesse sul debito che abbiamo un costo del nostro debito molto superiore ad altri paesi e questo deriva da fattori che in parte dipendono dalla politica in parte non dipendono dalla politica ma certamente abbassare la spesa per interessi il che vuol dire abbassare il famoso spread è qualcosa su cui qui sì la politica può fare qualcosa di concreto però abbassi la spesa per interessi che anche qui malcontati nel 2023 sono stati un'ottantina di miliardi 78 miliardi quindi non proprio spicci se considerate che la legge di bilancio ne ha pesati se non sbaglio 25 26 e che il fondo parlamentare di dotazione per la legge di bilancio era di 100 milioni di euro e quindi la spesa per interessi 80 miliardi l'obiettivo che forse la politica dovrebbe porsi oggi è razionalizzare e cercare in qualche modo di abbassare la spesa per interessi e io lo dico subito ad evitare fraintendimenti io credo che quella che quelli più capaci di me chiamano la giapponesizzazione del debito e cioè il passaggio del debito come in Giappone quasi tutto in mano al risparmio retail e quindi ai privati sia anche quella una bella utopia si può lavorare su questo devo dire che uno dei per quanto mi riguarda non pochi meriti di questo governo rispetto al debito sia stato quello di cominciare a portare il debito nella disponibilità dei cittadini e quindi con risparmio retail però anche lì ora vuoi che siamo bravissimi il BTP Valore ha fatto 18 miliardi voi che facciamo altre tre emissioni altre due emissioni facciamo 60 miliardi certo il BTP Valore avete fatto una pubblicità dove c'erano due vecchietti che dicevano andiamo in crociera perché ho comprato il BTP Valore e quella è una pubblicità non è di Salvini cioè targata MEF non era mai successo nella storia che si raccontasse una panzana del genere scusami adesso non voglio essere però non era manco mai successo che facessimo non era manco mai successo che facessimo 18 miliardi di BTP no no era sul risparmio retail l'anno scorso l'anno scorso 12 però volevo dire ora che tu fai 18 miliardi di BTP Valore fai 18 miliardi in un anno ne fai 60 fai 60 miliardi di collocamento privato del debito che è tantissimo tantissimo e il fabbisogno di debito di quest'anno sono 355 miliardi una cosa sia 160 miliardi diciamo 360 ci sono altri 300 miliardi da collocare e li collochi a un costo probabilmente molto più fluttuante quindi il tema vero su cui noi dobbiamo tutti noi politica oggi interrogarci è il costo del debito e la gestione del costo del debito detto questo è ovvio che alla domanda iniziale cosa può vendere la politica oggi è auspicabile non venda nuovi tesoretti è auspicabile non venda nuovi pasti gratis è reale pensare realistico pensare che la politica continuerà a vendere tesoretti e pasti magari saranno merende non saranno pasti saranno piccoli snack ma e ripeto è un fenomeno globale se noi cerchiamo di staccarci dal contesto nazionale locale e cerchiamo vi ricordate quando io insomma quando non esistevano i navigatori e si andava in macchina e uno cercava una strada che faceva tirava fuori tutto città che teneva in macchina no tirava fuori tutto città e qual era il pregio di tutto città che non c'aveva la voce che ti diceva vai a destra vai a sinistra però ti faceva una cosa tutto città ti faceva vedere la strada dove tu dovevi andare dall'alto te la contestualizzava rispetto al contesto e con noi oggi quando affrontiamo determinati fenomeni ci manca l'effetto tutto città ci manca la capacità di vedere dall'alto e dal di fuori la strada dove stiamo andando la vediamo sempre dritta davanti a noi ma non guardiamo il contesto dall'alto e dal di fuori ecco questo potrebbe essere un obiettivo essere capaci di vedere queste politiche un pochettino di più dall'alto e dal di fuori guardandole dall'alto e dal di fuori probabilmente riusciremo a capire tutti da un lato che come dire l'effetto passatemi il passaggio operistico io che come dire ne sono abbastanza amante l'effetto Dulcamara e cioè l'effetto dell'imbonitore ci sarà sempre ci sarà sempre dall'altro che un po' di consapevolezza in più un po' di per uscire dal gergo paludato educazione finanziaria in più potrebbe servire non tanto a migliorare l'offerta politica quanto a migliorare il vero problema che è la domanda di politica che ci fanno i cittadini bene tocca a Veronica insomma la politica Veronica ci dice non ci sono alternative al massimo questo pasto lo possiamo cucinare un po' meglio oppure ridurre un po' le porzioni però grandi alternative non ci sono a te e le conclusioni di questo dibattito allora intanto grazie moltissimo di essere venuti sono molto onorata volevo fare un ringraziamento anche ai miei studenti che sono venuti perché ovviamente hanno già avuto il voto quindi non sono venuti qui per essere gentili perché sono loro che lo pagano questo pasto gratis quindi è importante che ci sia un ringraziamento speciale a mia figlia Laudomia che ha preso un aereo ed è venuta ok allora che cos'è il pasto gratis il pasto gratis è un metodo che come io dico nel mio libro usano tutti i governi di presentare la spesa pubblica come se fosse senza costi e in più non si spiega qual è l'impatto chi pagherà e quanto si pagherà facciamo un esempio ora perché c'è Luigi Marattin gli 80 euro quando Renzi annuncia gli 80 euro fa un esempio e dice così uno si compra uno zainetto ecco questo è un po' il metodo dello zainetto come diceva il sottosegretario ma è d'accordo anche Luigi cioè se io da un elicottero butto dei soldi in economia beh uno zainetto te lo compri ma anche due il problema è capire se il costo di questo zainetto è superiore all'impatto e quello che abbiamo visto nei dati purtroppo è così allora io nello scrivere questo libro uso un metodo che è quello di andare a prendere tutti i documenti che chiunque può trovare su internet cioè tutti i documenti ufficiali forse io sono un po' facilitata ho lavorato al tesoro quindi un po' li conosco questi documenti però insomma stanno lì volendo noi cittadini potremmo capire che effettivamente tutti ci servono pasti gratis allora qual è il problema dei pasti gratis e per cui sono d'accordo fino a un certo punto sul fatto che non c'è alternativa che i pasti gratis io li definisco una droga legalizzata perché arriva un governo e lancia un pasto gratis 80 euro quello che arriva dopo conferma quello precedente nessuno cancella le misure di spesa mai anzi le rafforza gli 80 euro sono diventati 100 euro nonostante fossero molto criticati e rilancia e quindi rilancia radio cittadinanza e quota 100 poi si rilancia col conte 2 con il cashback i monopatti le biciclette ma poi bisogna inventarsi sempre qualcosa di nuovo perché i cittadini si abituano al pasto gratis all'idea di che è tutto gratis cioè è una magia è un mondo meraviglioso e allora si arriva al 110% di cui tutti sono colpevoli questo bisogna che ce lo diciamo in maniera molto chiara non c'è un partito che abbia detto quando fu lanciato il 110% che non bisognava farlo ok ora abbiamo un'obiezione io c'ero si è sempre opposto no Luigi lo so è per quello che l'ho invitato infatti ho parlato di partiti Luigi lo so benissimo quindi tutti erano d'accordo ora oggi ci guardi lo vediamo il conto del 110% e ci stupiamo insomma ma cosa ci potevamo aspettare un bonus che ti dà più di quello che ottieni io di quello che paghi io nel mio libro dico lì si paga il vitto e anche l'alloggio ma perché? perché c'è una necessità di rilanciare sempre di più ecco perché secondo me il passo gratis è fallimentare dal punto di vista del consenso perché tu magari entri dalla porta ma poi riesci molto brevemente dopo un pochissimo tempo perché c'è sempre qualcuno che tirerà fuori un passo gratis più allettante più interessante di quello del tuo predecessore e quindi è un circolo poi però arriva un momento in cui qualcuno questo conto lo deve pagare e io nel mio libro spiego che il conto dei passi gratis degli altri è Meloni che lo pagherà nel primo anno di governo perché? perché ti cambiano le condizioni non perché Meloni lo volesse fare ma perché le condizioni sono completamente cambiate non siamo più nella lunga epoca di tassi e interessi bassi non siamo più in una situazione in cui la BCE ti compra il debito non siamo più in una situazione in cui le regole di bilancio sono state sospese e quindi fare passi gratis finanziati a debito è molto molto costoso ed ecco che Meloni ha dovuto rivedere Radio Cittadinanza ridurre il bonus 110 sotto il 100% togliere delle misure a mio avviso folli e regressive che aveva messo il governo Draghi come lo sconto sulle accise che insomma uno ha lo sconto sia che c'è la Ferrari sia che c'è la 500 tutto questo perché il contesto ti porta a dover pagare anche se non vuoi i passi gratis degli altri ora qual è il conto del passo gratis che noi accumuliamo è questo famoso famoso debito allora qui quello che io faccio nel mio libro è andare a guardare come questo costo i politici tendono a nasconderlo ci sono vari modi per nascondere questo costo la creatività non è certamente mancata allora gli si dà dei nomi positivi lo spiegava prima il presidente Giulio quindi il debito non lo si chiama debito lo si chiama flessibilità lo si chiama tesoretto un po' questa idea che io mi aggiro nei corridoi del ministero dell'economia e trovo dei forzieri con delle casse d'oro ecco il tesoretto è debito in nessun paese al mondo il debito viene chiamato tesoretto ora lo chiamiamo i giornalisti vabbè lo seguono poi lo chiamiamo ora anche scostamento poi ci siamo inventati anche dei trucchi contabili per nascondere il debito le famose clausole di salvaguardia anche qui un trucchetto che usiamo solo noi nessun paese al mondo mette dentro il proprio bilancio dello stato le clausole di salvaguardia che sono una promessa falsa una bugia in cui si dice ai cittadini guarda oggi mi finanzio 100 euro di spesa non trovo subito le risorse non ce le ho ma le troverò se non le trovo non vi preoccupate aumento l'IVA l'IVA non l'ha mai aumentata nessuno se non Enrico Letta gli altri hanno tutti pagato a debito e quindi la clausole di salvaguardia è un trucchetto per aumentare il debito pubblico poi si arriva secondo me con un salto proprio anche diciamo teorico che è il debito buono cioè cosa fa il governo Draghi forse involontariamente non capendo fino in fondo le conseguenze ma offre alla politica un alibi meraviglioso che è il debito buono allora se il debito è buono io non lo devo né nascondere né ridurre e quindi ecco che il debito cattivo sparisce dalla scena io faccio una serie di esempi di politici che ogni volta che devono presentare una loro misura dicono ma guarda che il mio è il debito buono quindi questo si può fare e quindi tutto è debito buono gli investimenti forse lo sono un po' ma diventa debito buono i sussidi diventa debito buono i cashback diventa il debito buono il piano nazionale di ripresa e resilienza e qui lasciatemi dire una cosa noi siamo un paese con un problema enorme di burocrazia inefficienze storture e siamo quello che ha preso tutto e subito 200 miliardi di risorse europee di cui 122 sono a debito buono ovviamente come è stato definito europeo costa di meno ma sempre debito è e infatti quello che noi vediamo ora è che è molto complicato essere diciamo in tempo c'è anche un altro modo lo dico perché qui c'è Giovanni Tria l'ex ministro c'è anche un altro modo che abbiamo utilizzato per per nascondere il debito è il modo in cui lo comunichiamo vi ricordate quando dal 24 si disse che eravamo scesi al 204 ecco qui siccome bisognava fare una correzione perché l'Europa ci chiese una correzione invece di dire beh siamo scesi da 24 a 2 il presidente del consiglio dell'epoca Giuseppe Conti si inventò questa roba del 204 cioè se io lo dico veloce ma nessuno si accorge che non è 24 cioè vi rendete conto dell'inganno oramai qui siamo anche all'inganno linguistico io lo dico veloce dico 204 e i cittadini pensano che la correzione non c'è stata cioè in Europa penso che una cosa così non l'hanno mai vista ma poi grazie al ministro Tria in realtà siamo scesi molto più in basso è stato quell'anno il 2019 quello del disavanzo più basso di sempre ma la cosa che è interessante che appunto ne parlavo con Giovanni è che i protagonisti politici dell'epoca non l'hanno neanche rivendicato quel risultato cioè i due vice premier Di Maio e Salvini non è che hanno detto beh noi siamo scusate mi cascano noi siamo il governo che ha messo i conti in ordine no perché il disavanzo che aumenta è una cosa positiva se vi leggete nel libro io mi sono guardata per un'ora questo filmato che fu fatto quando Di Maio si mise sul balcone e annunciò abbiamo abolito la povertà abbiamo aumentato il disavanzo sotto c'erano tutti i ministri 5 stelle allora c'era un giornalista c'è un video lo potete vedere c'è il link un video che dura un'ora il giornalista chiedeva a tutti questi sotto Palazzo Chigi e questi ministri grillini dicevano ma io sono felice sono contento perché il debito è aumentato allora il giornalista diceva beh però che il debito aumenta non è una buona cosa e i grillini rispondevano no ma il debito che aumenta non è un numero è una speranza è un'opportunità è una gioia nuova cioè qui siamo entrati nella psicologia di gruppo cioè i numeri non sono più numeri nel modo in cui viene raccontato il pasto gratis ma è una specie di grande terapia dove il gruppo deve essere felice ecco questo è veramente secondo me l'apice dell'inganno che è stato raggiunto ora qual è il problema dei pasti gratis che che questo debito il debito è un problema io faccio un esempio nel libro lo definisco come una crepa che uno ha sul tergicristallo e può stare lì questa crepa e non succede niente tu puoi fare dei lunghi viaggi e il tuo vetro sta lì non cambia nulla poi a un certo punto bam succede qualcosa arriva un sasso arriva uno shock e cade giù tutto e questa è la dimostrazione che il debito non è un problema finché non lo diventa cioè il debito ti rende vulnerabile quando arriva un altro shock speriamo di no e come ci diceva prima costa costa in termini di spesa per interesse per darvi un ordine di grandezza noi spendiamo 80-90 miliardi di spesa per interessi per l'istruzione cioè per formare il nostro capitale umano e dei nostri giovani ne spendiamo 70 quindi questo dà un po' l'ordine di grandezza e quindi ovviamente va ridotto questo debito questo è fondamentale farlo ora qual è il problema di questi pasti gratis che sono come dicevo prima un circuito una specie di circolo vizioso si comincia si comincia si comincia e qualcuno paga e in questo caso è stata Meloni ora quello di cui mi interrogo nel libro è cosa farà Meloni si ricontinuerà si ripartirà con un altro passo gratis qualche qualche elemento a mio avviso c'è di una ripartenza però qui c'è un altro punto e concludo i pasti gratis non hanno solamente un costo economico che a mio avviso è un grande problema hanno anche un impatto sulla nostra democrazia e secondo me questo è un tema veramente da non sottovalutare cioè cosa succede quando si promettono pasti gratis ci sono due opzioni la prima li fai fai i pasti gratis aumenta il debito ma tu non sei da solo ci sono i mercati che ti guardano e i mercati possono reagire in maniera anche molto violenta molto brutale l'abbiamo visto durante la crisi finanziaria allora però cosa succede che i cittadini che oramai sono drogati gratuitamente che non sono più abituati ai costi cioè noi non siamo più abituati all'idea di costo solo per fare un piccolo inciso abbiamo l'inflazione la BCE prova a ridurla per ridurre l'inflazione bisogna aumentare i tassi di interesse e questo porta a un necessario rallentamento dell'economia beh non c'è un politico che dice vabbè questo è normale dobbiamo passare da un costo e poi ritorneremo a una fase normale cioè nessuno parla più di costi quindi cosa succede i cittadini sono abituati a non avere a non dover pagare i costi quindi quando vedono una reazione brutale dei mercati perché il debito è aumentato troppo allora si diventa ci si chiude e la colpa è dei poteri forti di Bilderberg dei cattivi europeisti e si entra dentro delle diciamo protezioni nazionaliste un esempio perfetto è quello della Grecia in Grecia dopo gli anni di sacrifici e di austerità è andato in Parlamento un partito neonazista come Alba Dorata quindi questo è il primo caso faccio quello che ho promesso ho una reazione dei mercati e crea un nazionalismo pulzioni nazionaliste che hanno un impatto e minano la democrazia l'altro esempio è non rispetto le promesse perché non posso questo è il caso di Giorgia Meloni e io dico per fortuna perché non posso farlo perché il contesto è davvero molto pericolosa e l'ha anche mini la democrazia perché i cittadini dicono ma come ma non mi avevi promesso io ti ho votato perché tu dovevi fare lo sconto sulle accise perché dovevi farmi la flat tax perché dovevi farmi la riforma delle pensione e ora non me le fai più e anche lì si crea uno scollamento tra gli elettori e la democrazia quindi secondo me il pasto gratis va visto non solo in un'ottica di costi che sono enormi che pagano i miei studenti i miei figli e tutte le giovani generazioni e soprattutto ci indeboliscono ci rendono deboli perché attenzione il debito non è solo un fattore di vulnerabilità ti riduce il margine di manovra cioè quando succedono delle pandemie delle crisi l'abbiamo visto la Germania aveva i margini di manovra per poter sostenere l'economia noi non avevamo gli stessi margini di manovra quindi è anche una questione di poter affrontare meglio le crisi ecco non c'è solo un costo di debito ma c'è anche un riflesso secondo me da tenere sotto controllo sulla democrazia il rischio di continuare con i passi gratis è proprio quello di chiudersi in se stessi e poi inevitabilmente dare la parola a chi ti promette come io scrivo oltre il vitto oppure l'alloggio continuo con un ultimo diciamo un commento e mi piacerebbe sentire cosa dicono Luigi Marattin e Federico Freni il 110% non è a mio avviso solo diciamo l'apice dei passi gratis ma c'è dietro un'ideologia che io reputo molto pericolosa che è quella della moneta cioè il 110% è stato introdotto con l'idea di una cessione illimitata del credito l'idea sottostante era quella di creare una moneta parallela non coniata dallo Stato ma dai cittadini una moneta per poter pagare le tasse che circolava in maniera illimitata cioè come se fosse un bene pubblico che io definisco un meraviglioso pasto gratis ecco questa è un'idea davvero molto pericolosa che si poteva prevedere dall'inizio cioè è inutile oggi lamentarsi bastava leggere come è stata definita e quello secondo me è davvero l'esempio più scellerato di pasto gratis e per moltissimo tempo noi pagheremo le conseguenze mentre invece l'impatto sull'economia fa così e va giù perché come abbiamo detto se distribuisci risorse qualcosa ottieni ma va su va giù mentre l'impatto sui conti dello Stato sono permanenti grazie 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 dobbiamo rispondere alla domanda di Ronica in 30 secondi sul super bonus guardate io ero il relatore di maggioranza del decreto rilancio che conteneva l'articolo 121 il super bonus e la storia la conosco molto bene c'è bisogno di un'altra iniziativa per farlo ma la sintesi è molto semplice la sintesi è che i 5 stelle avevano 300 parlamentari su 900 in quella legislatura e dissero o si fa così o tutto il DL rilancio non lo approviamo il DL rilancio adesso non vi dice niente ma eravamo nell'aprile del 2020 col paese in lockdown quel DL rilancio aveva 155 miliardi di saldo netto da finanziare di impegni 65 di indebitamento netto è stato il provvedimento di politica economica più corposo della storia della Repubblica perché c'era il paese in ginocchio c'era la cassa integrazione i rimborsi vi ricordate? e i 5 stelle dissero o così o niente io provai a dire guarda vuoi fare sto 110 per 18 mesi? va bene ma togli l'articolo 121 che era la moneta fiscale la cessione illimitata perché loro avevano letto su Topolino presubibilmente del resto insomma non potevano andare troppo più in là di là scusa un mal di golo avevano letto che la moneta fiscale era una sorta di pietra filosofale dice no dobbiamo fare esattamente come dice Veronica e io gli pregai in ginocchio non lo fate perché questo è il vero problema perché se chiedete a me il vero problema del 110 continua a essere stato quello grazie Luì scusa se ti interrompo ma c'è ci sono persone fuori che aspettano Veronica per il firma copie il punto è che i 5 stelle non è che hanno fatto un golpe militare i 5 stelle erano nella condizione di fare quel ricatto perché il 4 marzo del 2018 ci sono stati 13 milioni di italiani che hanno messo la croce sui 5 stelle perché hanno creduto a quelle robe quindi il punto è sempre capire come ci siamo arrivati grazie a tutti grazie a tutti grazie per la partecipazione libero immediatamente Veronica che è aspettata al banco del firma copie buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti